ciao a tutti amici siete pronti per una gita fuori porta? nella borsa di mamma ci sono tutte le cose da bere, da mangiare e invece nella mia guardate cosa c'è guardate avvicinatevi così è un po' troppo vediamo che c'è vediamo che cos'è questo zainetto è lo zainetto di me contro te ma faccelo vedere è un girabrilla lui che diventa Sofì ma è stupendo proprio per la scuola guarda Sofì ha il righello in mano ha il righello in mano? una bella squadretta per fare i disegni geometrici e invece lui che è in mano? lui? il quaderno il quaderno guardate 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 che cosa c'è dentro tutte cose di me contro te wow il tuo diario la mia cammina ok questo lasciamo qui poi c'è dentro ovviamente la targhetta perché l'abbiamo appena comprato si poi ma cosa vedo lì giù in fondo? c'è una c'è una tosca segreta c'è una tosca segreta vediamo vediamo secondo me c'è qualcosa lo sentite? i uovi orologi dei me contro te wow è fantastico vediamo com'è vedo qualcosa qui in fondo che cos'è? oh Kira e Ray sono il lago dei me contro te Kira e Ray sono le 6 e 39 si vediamo un po' bene com'è fatto carino bello ci possono fare le challenge è la ruota del mistero di me contro te vero guardate come c'era veloce a me è uscito il colore rosso che bello lo indosso subito adesso lo provo a mettere al polso forse ci serve un aiutino di mamma mamma eccoci ma è fantastico è proprio tutto benissimo io lo adoro così posso andare in giro e fare vedere a tutte che faccio parte del team trote però anche io ho i miei fan in questo video ne voglio salutare uno Marco amico di celeste ciao Marco ciao continua a seguirci bene da Sofia è tutto da lui pure e allora ciao e ci vediamo al prossimo video e alla prossima unboxing ciao ciao